Resta rischio e sondazione, il torrente taglia borsa a Ciapparo nella frazione giarrese di San Giovanni in Montebello, in via Coriolano. In particolar modo alcuni residenti rischiano ad ogni pioggia l'isolamento delle proprie abitazioni. Per questo chiedono che l'amministrazione comunale intervenga e pulisca il letto del torrente. Nei mesi di pioggia qua è difficile attraversare, non si può addirittura attraversare. Perché se uno si trova dal lato fuori casa deve aspettare che cala il livello dell'acqua. Chiedo perlomeno il passaggio per poter andare a casa perché l'anno scorso sono rimasto fuori. E qua ci sono dei vicini di casa che possono testimoniare questa situazione. Perciò io chiedo di intervenire nel modo più veloce perché qua nel periodo invernale è difficile andare a casa. Ho delle bambine, ho ragazzi che vanno a scuola e come io devo andare a lavorare e anche giusto devo avere la possibilità di attraversare. Nei giorni scorsi la questione è stata anche al centro di un'interrogazione presentata dal consigliere comunale Leo Patanè. Tutto è nato nell'ottobre-novembre 2014 quando le forti piogge hanno di fatto portato via quel poco di pavimentazione diciamo provvisoria che vi era. E quindi da quel periodo ogni volta che ci sono cospicue piogge diventa una zona, diventa come un fiume che scorre ed è impossibile per coloro che abitano in via Coriolano. Nella parte che si interseca con questo torrente diventa sostanzialmente impossibile raggiungere le loro abitazioni. Ma ancora peggio se sono dentro casa e dovesse presentarsi una problematica di necessità di soccorso sono impossibilità di poter prendere l'auto e magari regarsi in ospedale. Quando ho presentato questa interrogazione l'amministrazione non mi ha dato alcuna risposta. Ma su questo ormai ci sono abituato perché tutte le interrogazioni che ho presentato fino ad oggi non hanno avuto risposta scritta. Evidentemente l'amministrazione non ha tempo per affrontare i problemi della città mentre vedo che ha sempre tempo per affrontare altre problematiche come creazione di bandi eccetera. Su questo ritengo che l'amministrazione deve essere molto più attenta perché le problematiche che io sottopongo come quelle dell'illuminazione, della messa in sicurezza dei parchi o questa della via Coriolano sono problemi che riguardano l'interesse della collettività. Grazie a tutti. Grazie a tutti.